Benvenuti in questo nuovo video di Super Mario Odyssey Durerà molto Perché questa sarà una serie Cioè, sì, proprio una serie Ok, ora Ho sbagliato già mondo Perché io ne ho un altro di mondo e sono molto felice Ragazzi, nello scorso episodio vi avevo detto che Praticamente, non guardate Vi lascio il link in descrizione del mio profilo Cioè, del mio password del coso Del mio password Del codice amico Così potremo giocare a Fortnite A qualcosa insieme Va bene? Vi dico di lasciare 7 like 10 like, dai, 10 like E iscrivervi al canale E, ah, questo dovrebbe essere uno speciale 10 iscritti Perché abbiamo 10 iscritti Vabbè La seconda volta che entro in Super Mario Odyssey Nuova partita Inizia Nella scorsa partita c'è In modalità assistita No, no, neanche per sogno In questa nuova avventura Faremo delle cose Nei cieli sopra il castello di Peach Chi se ne frega Chi se ne frega Beh Crasciato Oh, cos'è sto caricamento? Non ci credo Ho già iniziato Sì, sì, dai Cap Non so che sei mongoloide Ma non voglio Per favore Ok Guardiamoci attorno Sì, mi sto guardando attorno Mmm, quanto sono sexy, eh Certo, chi si è spaventato Oh, dove vai? Ma dove vai? Barroni in bicicletta Oh, oh Oh, ma sei pazzo? Wow, delle rane Non riesco ad ucciderle Oh, dove sta andando stessimo Tu chi sei? Berlusconi, allora Ok Mmm, non si nasconde, eh Vediamo che vuole Mmm, un pezzo di cappello Scusa se prima mi sono scoppiato via Il fatto è che mi spavento facilmente Certo che hai fatto una bella caduta Ti trovi nel regno del cappello Siamo stati attaccati dallo stesso mostro Che ce l'avevo anche con te È come se ciò non bastasse È rapito alla mia sorellina Ah, 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 ah Ridi, ridi che la morte fa in gli occhi, eh Di Super Mario 3D World i video non li faccio più Perché, cioè Cioè, non ho potuto più farmi Perché probabilmente la way you si è Cioè, non ho potuto più farmi Cioè, non ho potuto più farmi Cioè, non ho potuto più farmi Però il video, quello là Ci vediamo a Natale Avete visto quell'altro canale azzurro Che si chiama Mg666? Sono io Però ho un altro canale Perché avete lasciato una visualizzazione, ragazzi Perché? Vabbè Ero sul punto di salire su una delle vostre navi Per dare la caccia a quel mostro Ma sfortunatamente Sono state tutte disrutte durante l'attacco Si vede Oddio Ma a pensarci bene Nel regno qui vicino dovrebbe essercene Una vecchiotta Ma ancora funzionante Potremmo raggiungerla dalla cima della torre Cappello Se riusciamo a superare i tira piedi di quel mostro Stavo pensando E se unissimo le nostre forze in fondo Abbiamo un obiettivo comune Insieme potremmo riuscire a salvare la mia sorellina e la tua amica No, è troppo stile funky Non hai il tuo stile? Che ne dici di questo? Ragazzi, da così un sacco di... Cioè Da un mese che ho iniziato il mio canale su YouTube Ho già i dieci iscritti Sono tantini Però ho creato il canale perché mi piaceva quello di Gabby Vabbè Prova a lanciarmi con Y Io ho il contro Specie Questo qua Questo Questo O questo Quindi c'è In teoria non potrei fare questo Però io premo X Ok, prima cosa guardiamoci intorno Perché non ho ancora capito che cosa sia Io volevo fare una live streaming di questo Ma non ci riesco Non riesco Non mi compare Boh Quando avrò l'iPad Pro Aprirò un nuovo canale Che sarà lo stesso MGS Se sai naturalmente Ah ragazzi Diventate subito miei amici Perché non c'è niente solo uno Me ne servono altri Sono ancora un nabbo Nel fare i video su YouTube Ma farò un po' Avrò un tablet E farò i video migliori Perché avrò l'iPad Pro E quindi Prendo quello con l'appoggio E eccetera Sì Poi farò un sacco di nuovi video Super Smash Bros E Mario 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 Kart 8 Deluxe Perché l'avrò a Natale Manca un botto Però Continuerò a fare i video sul telefono di mia madre Però ci mette 600 anni a caricarli video Cioè Non so perché ci mette 652 anni E poi non ha giga Quindi Questo telefono è poi senza sim Cioè Io me la prenderò Al mio compleanno Vabbè vediamo Che vuole Aspetta Non ho ancora guardato attentamente No Lei ho già visto Ok I tira piedi di quel mostro Bowser Sono ancora là Sopra E non sappiamo che fare Per fermarli E allora che? Y Lancia il cappello Puoi agitare con i Joy-Con Cosa c'è scritto? Ah sì 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 questo No no Consigli ai viaggiatori Lancia Ah va Via 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 Lo sa già tutto No Eh sì lo sa così Questo Vabbè Lo sanno fare tutti i bambini del mondo Ok Anche i barboni Obriaconi Quelli che lo sanno cagare Bla bla Uh milioni di cellulite Ok Un ponte Tg5 Un ponte Comparso Del nulla Ottimo lavoro Credo che questo video Durera mezz'ora Ma non so Non lo so Boh Perché il mio cellulare Io lo controllo Sempre Perché ho paura Che si termina Il video Ragazzi Se si ferma il video Non è colpa mia È proprio là Il video che si ferma da solo Interno della torre cappella Parlo un po' male Ma Cioè Sono quasi le Non so Che adesso Le Le Lune 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 45 Lune Un quarto Meno un quarto Lune Meno un quarto Cioè Vabbè Io Sembro un po' troppo Non ho letto quello Perché mi sono Sì sì Si trasforma Ma perché fanno i filmati Io dico Per far imparare alla gente Naturalmente Però Io quando avrò Super Smash Bros U Per Wii U Vi farò vedere Tutte le Le Cosi I video Almeno però Cioè Nel video Di Super Mario 3D Land Non le faccio più Ce la farò Nell'altro canale Ma Ed è una settimana Che non le faccio più Non posso Per farli Cioè Sono una persona L'ha visto Invece Non so Quanti Visualizzazioni Ha visto Le persone Non avrò Viste tipo Milioni di visualizzazioni No Non esageriamo Ne avrò quasi Cento Però Cioè Perché Se voi conosciute Conosciute Quel Se conoscete questo canale Che si chiama Quel Coio Su YouTube Su YouTube Print Ha un foglio Che ha mostrato Che ha mostrato Sì Aspetta Ha un foglio Che ha mostrato Proprio l'entità di Minecraft Che anche io ce l'ho E perché Era proprio mio Cioè Era di mia Di mia sorella E io ce l'ho E io ce l'ho proprio In un scaffale Col foglio Vabbè Se non lo conoscete Vi lascio il link In descrizione O sotto i commenti Torrecappello Quell'antipatico Di un mostro Ha rovinato tutto I giorni come questi Bisogna stangere i denti Ed andare avanti Bravo Vuoi fare qualcosa Per aiutarci Ti prego Chi è responsabile Di tutto questo Sono così spaventato Che non riesco a muovere Nemmeno una padera Boh Questi sono malati tutti Ti prego Fai attenzione Guarda che io sono Un mago professionista Sono un pro Non è che Ragazzi Io non faccio La serie di Minecraft Perché dovrò farla Sì Ma la faccio Settembre Perché Ce la faccio Settembre La serie di Minecraft Non posso farla Quest'oggi Cioè Oggi Questa Questo mese Lo farò la prossima volta Perché Poi devo pure andare In vacanza Quindi Mi spiace